La mia esperienza è andata molto bene, ho cominciato a scoprire il make-up IE in 2050 con la barca di serie, ho avuto un'esperienza molto positiva, sono piloti molto affidabili che navigano bene sia in modo di trabussola sia in modo di trabussola sia reale sia apparente, quindi mi sembra un ottimo oggetto sia per chi decide di regatare sia anche per chi decide di andare in regata con la famiglia e quindi magari con i bambini, con la moglie, e con i bambini che il compagio ha ridotto, io credo sia un'ottima occasione avere un buon pilota su cui fidarsi di volina, di poppa per un buon assetto. L'assistenza ti è sempre trovata abbastanza bene? L'assistenza si, secondo me è stato molto contento sia per i contatti con te sia per i contatti direttamente con la Francia, visto che mi nota molto in dettaglio e quindi mi nota che se è ben settato può essere veramente riformato. In caso in cui salva la pelle vi voglio la sentire. Riposate, se non riuscite a riposare, lascia. Il riposo è il segreto delle buone decisioni. Yes, yes! Grazie di tutto!